La nostra Terra Piana a livello è il tallone di Achille del nuovo ordine mondiale. Questo argomento, forse il più ridicolo di tutte le teorie sui complotti, deriso e ridicolizzato per secoli come la visione di un mondo ignorante non scientifico, è in realtà uno dei fatti empirici concreti più facilmente dimostrabili nella vita. Quando l'umanità alla fine si sveglierà sulla verità della nostra Terra Piana a livello, entrerà in una vera e propria nuova era di illuminazione. Il rinascimento del senso comune è l'opportunità di esporre finalmente, per sempre, e di eliminare questi ingannatori che stanno fra noi. Un film di Neo Yoman Eve Un fatto empiricamente provato della realtà. Le masse d'acqua cercano e definiscono il livello. Il 70% della superficie della Terra è contenuto dall'acqua a livello. La Terra è dimostrabilmente a livello. La verità è singolare ed eterna. La verità è sempre stata qui, fra noi, e resterà sempre qui. È la nostra percezione che si deve allineare con essa. Per imparare di più riguardo questo importante argomento, fate le vostre proprie ricerche attraverso l'indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu 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 www.tinelli.eu